bianchello non fa rima con vinello ma anzi a giudicare dalla crescita esponenziale del prodotto non solo in termini di bottiglie ma anche di tipologie invecchiato superiore spumantizzato la rima giusta sarebbe con gioiello un gioiello tutto della provincia pesarese per una doc che sta dando tante soddisfazioni alle cantine che lo producono la lungimiranza della sommelier scomparsa Sara Bracci fu proprio quella di inventarsi una manifestazione itinerante che potesse enfatizzare territorio e produttori ora il sommelier Raffaele Papi raccogliendo l'eredità di Sara farà tappa in piazza 20 settembre a Fano per un evento di chiusura abbiamo scelto Fano perché comunque abbiamo valutato che Fano era una delle città più importanti della provincia ricordiamo che abbiamo fatto la partenza delle staffette ad Urbino quindi da Palazzo Ducale e ovviamente cercando un'altra realtà importante siamo venuti a Fano poi ovviamente qui abbiamo trovato l'ottima collaborazione della Proloco che la Proloco di Fano che insieme collaboriamo per far crescere questo evento e creare un evento che si ripeta negli anni e arriveremo anche su Pesaro quindi nel finale quello che abbiamo voluto è legare fortemente i prodotti dell'agricoltura alle nostre bellezze ai nostri borghi e alle nostre città più importanti quindi questo è quello che ci muove per venire qui in piazza il 25 per fare il staffetta Wine Food Festival. L'estate fanese non smette mai di stupire anche il buon bere e il buon cibo entrano nel saluto buono della città in piazza 20 settembre. Siamo orgogliosi di ospitare la fase finale della staffetta e il bianchello dell'altra staffetta che scelgono piazza 20 settembre per una grande esposizione di produttori 24 case vinicole con 48 etichette per celebrare un prodotto che negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione straordinaria testimonianza appunto dell'impegno dei produttori della ricerca tecnologica enologa ma anche dell'amore per un prodotto che ci ha identificato nelle radici della nostra terra. In più affeziona collega sia il cittadino che magari distrattamente non ha saputo valutare bene il luogo magnifico in cui ci troviamo a vivere ma anche il turista ovviamente che quindi fa un'esperienza importante straordinaria che può raccontare può promuoverci tutti.